La domanda è sempre la solita, ma il nostro oggetto alla fine della fiera sarà resistente oppure no? Tra i 5 parametri fondamentali che stiamo analizzando in questi tutorial, uno dei più importanti forse è l'infil, ovvero la percentuale di riempimento del nostro oggetto. Guardate questo qui, vedete? Non è pieno, anche se in realtà noi abbiamo fornito che cosa allo slicer? Un solido e solido dopo di conseguenza viene svuotato secondo una percentuale che noi andremo ad inserire direttamente nel programma. Questo è un profilo, più che profilo, è un tipo di riempimento cosiddetto straight, ovvero lineare. Ci sono linee semplicemente incrociate a 90 gradi. L'alternativa più comune al riempimento di tipo lineare è quello a nido d'ape. È uno dei più comuni e forse anche il più bellino da vedere. A livello di resistenza cosa cambia tra un e l'altro. Poco, poco o nulla. Diciamo che stiamo andando proprio, proprio, sarebbe meglio utilizzare quello. Sto registrando. Tra i due tipi di riempimenti qual è meglio? Provateli. La cosa migliore è sempre provare. Personalmente non ho trovato grossissime differenze. Se proprio proprio devo preferire, preferisco il cosiddetto honeycomb, ovvero nido d'ape. Come abbiamo visto per la risoluzione di stampa, anche qui inserire un valore alto o basso di riempimento ci porterà a risultati completamente differenti. Prima di tutto a livello di resistenza del pezzo. Sono bravi tutti a fare un oggetto resistente completamente pieno, quindi con infill o riempimento al 100%. La cosa bella della stampa 3d sta anche nel poter risparmiare materiale e quindi svuotare il più possibile l'oggetto mantenendo una determinata rigidezza barra resistenza del pezzo. Qui i valori più usati quali sono? Generalmente andare oltre il 25 barra 35 per cento di riempimento. Sì, non è molto indicato, però ovviamente se dovete fare oggetti molto molto resistenti, più su andate con il livello di riempimento e più l'oggetto sarà resistente. Di contro però cosa avrete? Peso del pezzo e di conseguenza materiale consumato. Quindi meno materiale utilizzeremo e meno il nostro oggetto costerà alla fine. Altra cosa da considerare è il tempo di stampa. Come prima abbiamo visto la risoluzione di stampa che ad alte risoluzioni, quindi a layer molto molto sottili, il tempo di stampa raddoppia o addirittura triplica, la stessa cosa vale con il livello di riempimento. Più il riempimento sarà elevato e più ovviamente la nostra macchina dovrà lavorare per depositare il materiale. Di conseguenza i nostri tempi di stampa se lungheranno notevolmente anche qui. Quello che vi posso quindi consigliare è di provare a stampare diversi oggetti a diversi infill, diversi gradi di riempimento e poi provare sul campo quale può essere migliore per voi. Attenzione anche al fatto che ci saranno materiali più o meno resistenti, quindi non è solo l'infill che darà la resistenza al nostro pezzo. Ecco quindi come possiamo visualizzare il nostro infill all'interno dello slicer che utilizziamo per la maggiore. In questo caso sto utilizzando Simplify 3D, però è possibile visualizzare la stessa identica cosa anche su cura e su slicer. Non dite slice 3R, si dice slicer. Il nostro infill dunque apparirà così. Guardate, se io faccio una simulazione di costruzione, eccolo qui. Questo qui ricordo è al 10%, ma se io vado a cambiare l'impostazione al, che ne so, 50%, vediamo. Torniamo un po' più giù. Eccolo qua. Vedete quanto più fitto è. Però qui potete anche vedere quanto tempo ci vuole per fare un cubo 20x20. 3 ore e 58 minuti, ad esempio, al 50%. Ritornando indietro al 10% ci vorranno 2 ore e 6 minuti. Un notevole risparmio. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un commento qui sotto oppure un bel mi piace. Ricordati anche di iscriverti al canale se non lo hai già fatto e di visualizzare tutti gli altri video qui in alto a destra relativi alle basi della stampa 3D. Per oggi è tutto ragazzi. Un salutone da Taboo e dal Pirat. Ciao ciao!